Presidente, il recovery plan è nel vivo, si stanno esaminando i vari provvedimenti per la stesura nelle commissioni. Qual è il ruolo del Parlamento nel mettere, diciamo, nel circoscrivere questo piano, nel scriverlo? Il Parlamento sono mesi che sta lavorando, noi siamo stati il primo Parlamento in Europa a esprimere linee guida proprio sul piano economico per la ripartenza. Queste linee guida sono in mano al Governo che chiaramente dovrà tenerne in considerazione. Poi faremo ulteriori passaggi parlamentari, quindi un lavoro assolutamente centrale, di indirizzo molto forte e fondamentale da parte del Parlamento italiano.